eccoci qua con irene zanier a presentare il nuovo corso di astrologia questa volta parliamo di saturno allora questo corso qui è un po particolare nel senso che è inserito all'interno di un contesto più largo mi spiego e questa primavera come anche la scorsa primavera ho lanciato con a retusa academy è un corso interdisciplinare questa volta siamo nove insegnanti anzi dieci insegnanti per nove corsi a parlare della morte così per allegria per tenerci allegri e pimpanti e alcuni di questi corsi tra cui quello di rene hanno un approfondimento uno sviluppo e che da lezione diventa un corso vero e proprio strutturato nelle canoniche quattro lezioni a cui siamo abituati con irene e questa volta parliamo appunto parlando della morte nel corso interdisciplinare abbiamo scelto di approfondire su saturno che è il grande no il grande balordo il caprio spiatorio come vogliamo chiamarlo quello di cui abbiamo tutti quanti un po paura ci hanno fatto anche il film no saturno contro anche perché essi e quindi a questo giro parliamo di saturno come al solito i corsi di rene sono estremamente interessanti e anche molto seguiti il corso partirà mercoledì 5 di aprile e andrà avanti per quattro settimane al alla sera mercoledì dalle 20 alle 22 e faccio così un piccolo endorsement un piccola cosa sui corsi di rene come rene sa perché le sto rompendo le palle la sera mi sto sparando senza soluzioni di continuità tutti quanti i suoi corsi veramente uno uno dietro l'altro mentre sono in macchina che arrivo al lavoro al mattino e veramente spettacoli rene complimenti sono veramente interessanti anche la prima lezione che quella considerata un pochettino più dura un pochettino più 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 tosta di astronomia del pianeta io la sto trovando estremamente utile e soprattutto in cui parli di cose che che non trovi da altre parti tutto quanto discorso sulle fasi dei pianeti veramente veramente interessante veramente veramente importante e unico nel nel suo genere quindi non rubo altro tempo passo la palla a irene che ci dirà due cose su saturno e poi due cose di specifiche sul corso va irene tanto non hai bisogno di presentazioni personali cazzo mi vedrà mi conoscerà sulla base di quello che io propongo e chi già mi conosce non serve che mi presento prendo un attimo spunto da quello che stavi dicendo rispetto al modo in cui ho pensato di strutturare questi moduli che sono dei monografici fondamentalmente che facciamo appunto su ogni pianeta per arrivare poi a vedere anche aspetti un pochino più tecnici dell'astrologia nelle prossime lezioni sugli aspetti eccetera eccetera e mi fa molto piacere che tu abbia apprezzato il fatto che presento un contenuto che non è facilmente riscontrabile in epoca moderna questo è vero perché io stessa arrivando dall'astrologia moderna che tuttora pratico ho trovato un po limitante non dare spazio alla parte appunto astronomica e alla parte tecnica che noi troviamo ad esempio nella tradizione astrologica in quelle che sono le varie derivazioni quindi che sono i vari approcci a seconda del periodo eccetera eccetera motivo per cui siccome l'astrologia e fare buona astrologia imparare a leggere bene il tema natale significa fare caso a ogni piccolo dettaglio che quel tema natale li porta per evitare letture grossolane e che si possono fare al banchetto in piazza lavona oppure in piazza castello che possono dare anche delle risposte perché comunque il colpo d'occhio l'astrologo lo utilizza sempre ho voluto introdurre delle cose aggiuntive anche spiegando il perché della simbologia dei pianeti il perché viene attribuita una determinata natura al pianeta quella che è la sua funzione e questo l'abbiamo fatto l'ho fatto per tutti i pianeti anche per i luminari quindi in un tentativo di adesso mi spareranno di modernizzazione della pratica astrologica quindi andando a ripescare anche nelle fonti anche in quella che è l'astrologia antica delle cose che possono essere utili anche per valutare e giudicare quello che è contenuto nel tema natale questo lo dico proprio perché si dice sempre che il tema natale è qualcosa di eh personale eccetera eccetera però se voi comprate motivo per cui abbiamo fatto anche il corso se voi comprate un qualsiasi libro di astrologia trovate un ricettario quindi non trovate tutte le casistiche possibili immaginabili trovate tante ricette abilità del cuoco e della cuoca e quello poi di riuscire a prendere dei diversi ricettari per arrivare a quella che è la cucina dello chef noi puntiamo alto ovviamente detto questo saturno saturno è spaventevole è spaventoso stiamo parlando comunque di uno dei pianeti più pesanti assieme a marte viene definito dagli antichi appunto un pianeta malefico proprio perché contrario alla vita ma per un motivo per gli antichi saturno chiudeva la sequenza eh di della vicinanza rispetto al sole quindi se il sole che è la fonte di vita e il centro ehm dispensatore di luce appunto e di vita va da sé che a mano a mano che ci si allontana fino ad arrivare agli estremi di quello che è il sistema solare bene in quel caso per gli antichi abbiamo a che fare con qualcosa che si trova ai limiti della vita e infatti saturno si trova ai limiti della vita ti lascio parlare un attimino da sola io vado a fare uno scontrino e torno va benissimo quindi con saturno noi abbiamo perché viene chiamato il l'esecutore il tagliatore di teste appunto perché trovandosi essendo nella sequenza dei pianeti l'ultimo pianeta classico dopo eh giove saturno delimita quello che è lo spazio vitale delimita quello che era appunto eh il visibile anche e quindi è anche il limite raggiungibile dalla luce motivo per cui siamo in un luogo estremamente freddo estremamente duro e per gli antichi contrario alla ehm alla vita Saturno è però è anche il pianeta collegato alla struttura la strutturazione e come abbiamo messo ehm nel titolo del corso è pianeta collegato alla responsabilità che altro non è eh che l'abilità di rispondere a quello che c'è e quindi rendersi conto di quali sono questi confini di quelli che sono i confini delle proprie abilità i confini delle proprie capacità quindi saturno rappresenta un po' quell'insegnante che ti dice che oltre un certo punto non puoi andare quindi saturno rappresenta l'assunzione di responsabilità e la ehm il limite appunto estremo di quello che è la volontà infatti contro saturno non c'è volontà che tenga perché comunque abbiamo a che fare con qualcosa che ha a che fare proprio con con la privazione e con il principio proprio di restrizione e di senso del dovere è un pianeta che secondo gli astrologi moderni è anche strutturante la personalità quindi è una delle strutture ed è collegato appunto al senso del dovere è quella che è anche la funzione eh sociale normativa allora quando chi ha fatto giove sa che anche giove è collegato alla legge e alle norme la differenza è che saturno con saturno noi abbiamo il giudice eh e l'esecutore legislativo quindi saturno in questo caso castra castra e però va anche a premiare sottolineo il castra appunto perché uno degli attributi anche eh delle varie iconografie è appunto la falce che saturno ha in mano ed è interessante noi possiamo vedere questa falce quasi come fosse speculare alla falce lunare che è la datrice di vita e che ehm si contrappone nel segno del cancro come don come governo del segno del cancro al segno del capricorno che è appunto il segno eh di saturno quindi noi abbiamo nella luna e in saturno i due estremi nonostante chiaramente rappresenta un estremo anche al sole perché noi sappiamo che per gli antichi l'acquario era l'altro domicilio di saturno perché fino a un certo punto fino alla fine del 1700 urano non c'era ancora motivo per cui con eh saturno abbiamo il principio anche di privazione e di eh creazione di fame laddove la luna invece rappresenta il nutrimento con quell'obiettivo con l'obiettivo attraverso la spartanità di dare la consapevolezza all'individuo di quello che è veramente importante quindi la conservazione dell'importanza del di ciò che va mantenuto di ciò che è essenziale ovvero legato all'essenza motivo per cui saturno è anche un pianeta rivelazione spirituale in maniera molto diversa rispetto a giove con saturno noi abbiamo una forma di speculazione e di affinamento del pensiero abbiamo comunque un pianeta che porta tagliando all'analisi e alla razionalità quindi io penso e spero di averlo introdotto ehm degnamente eh un collegamento che volevo fare e mi riallaccio a quello che eh Igor diceva inizialmente noi abbiamo creato eh assieme ad altri docenti questo percorso collegato alla morte eh quindi la morte in tutte le salse e 50 sfumature di morte e effettivamente noi lo diciamo con il sorriso sulle labbra saturno è collegato alla morte quindi saturno è il pianeta della morte ma non solo saturno è il pianeta di tutti i misteri collegati alla morte quindi anche di quello che si trova oltre la morte eh sì eh sì eh a saturno ho dedicato la nuova linea dei segnalibri di di Aretusa Academy di Aretusa saturno apprezza non te lo farà mai vedere ma saturno apprezza anche perché il disegno che ho eh fatto per ehm per questo segnalibro e per il corso l'ho fatto proprio nel giorno in cui avevo l'opposizione al grado al sole ed è stato un un viaggione terrificante cioè mi sono sono entrato nel mood da Dio sono riuscito in in pochissimo tempo io normalmente ci metto due tre settimane ad avere l'idea riuscirla a realizzare quel giorno lì mi è venuta proprio che in due ore avevo preso fatto tagliato sistemato e tutto quanto ma ho pianto poi tutto il giorno e tutta la sera mi ha quello è la vibe di saturno che è inconfondibile saturno ti porta a prendere consapevolezza di quello che non può essere cambiato quindi quella legge inesorabile no quindi questa eh saturno è collegato anche ehm a livello corporeo alle ossa e noi sappiamo che la carne si decompone le ossa ci mettono un pochino di più quindi abbiamo con saturno anche un concetto di durata quindi quello che io cerco di fare e l'ho fatto anche con Giove è di non far vedere solo l'aspetto che ehm in maniera diciamo grossolana viene attribuito al ai pianeti quindi Giove è sempre bene Saturno è sempre male come dico sempre come insegno sempre agli allievi e allievi dipende cioè noi il dipende lo dobbiamo fare molto dipende punto it sarà il prossimo dipende è assolutamente eh una un motto guida eh di tutta la pratica astrologica quindi noi non possiamo dare risposte fino a quando non abbiamo fatto un'analisi approfondita quindi un pianeta malefico può diventare portatore di effetti benefici nella vita della persona chiaramente e te lo farà in modalità Saturno quindi il Saturnino non sarà mai quel compagnone trascinatore e animatore di feste a meno che non sia la festa tragica allora in quel caso oppure i concerti super goticoni tutto quello che ha a che fare con il film allora in quel caso Saturno domina appunto come ama sì eh sì e allora se tu stai guardando se tu che guardi stai guardando questo video eh con il corso che è già finito ed è già passato non ti preoccupare perché una una cosa che è molto comoda di Aretusa Academy è che ogni singola lezione viene registrata si fa in diretta in streaming in diretta su Zoom e Zoom permette di registrare eh queste lezioni e a partire dall'indomani mattina ehm gli iscritti al corso hanno a disposizione anche ehm la registrazione del della lezione e le dispense che Irene ha eh utilizzato nel nella lezione quindi eh se scoprissi questo corso o anche se eh vedendo questo corso eh ti pigli bene per il per il lavoro che sta facendo di Irene e ehm vuoi andare all'indietro a ritroso e scoprire anche gli altri corsi non solo puoi farlo ma eh acquistando un corso di quelli di eh di Irene hai anche uno sconto su quegli altri su quelli precedenti quindi ehm clicca sul link che trovi nella descrizione e scoprirai un mondo perché veramente ci sono abbiamo già fatto eh il corso generale introduttivo che è astrologia per neofiti assoluti poi siamo partiti con un monografico sulle case e poi i pianeti e siamo partiti dai personali e via via adesso stiamo arrivando eh ai sociali abbiamo fatto anche un piccolo corso sul ehm sugli asteroidi sugli asteroidi femminili che ha avuto un enorme successo non tutti ovviamente su alcuni asteroidi oscuri no perché tutti gli asteroidi veramente cioè ne parlo per esperienza non solo come commerciante me li sto sparando uno dopo l'altro e mi stanno veramente piacendo quindi avete l'entusiasmo di chi di chi li sta facendo non solo adesso eh finito un corso sto rifacendo le immagini del dei primi in cui non ero così tanto bravo nel nell'elaborazione grafica e sto prendendo spunto dal dal lavoro fatto da Irene da quello che sento nelle sue lezioni per per sistemarli crearli e fare bene e bello 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 mi sto divertendo un sacco infatti di là sto rifacendo quello sulle case sono sono con con il file aperto ecco tra l'altro sulle case è un corso a cui tengo particolarmente proprio perché è difficile trovare non lo dico perché l'ho fatto io giuro assolutamente sono la luna in vergine quindi non mi vedrete mai fare quella enorme ma è un corso che ho curato particolarmente perché non si trovano tante cose quindi non si trova niente in lingua italiana motivo per cui mi sono documentata in diverse lingue per portare una sintesi che è a cavallo tra l'astrologia moderna e l'astrologia antica quindi è un ci tengo particolarmente perché mi è costato molta fatica arrivare ad un assemblamento a un qualcosa di organico come quello che ho messo a terra bene 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 poi vi faremo anche sapere perché con Irene stiamo parlando stiamo pensando ad un ad una lezione sport da fare a fine primavera ma non vi diciamo ancora niente perché ci stiamo lavorando e sarà una sorpresona boom assolutamente dai grazie mille grazie a tutti quanti grazie a Irene e ci vediamo presto vedrete questo video lo spammo ovunque tanto quindi lo troverete da qualsiasi parte grazie mille a presto ciao 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 ciao